La lettra firma del generale di corpo d'armata Carmine Adinolfi, in cui il comandante interregionale dei Carabinieri definisce vile il comportamento di truffatori vigliacchi che non esitano a esercitare aggressioni psicologiche nei confronti di soggetti deboli, è stata l'occasione per fare il punto sul fenomeno delle truffe agli anziani anche nel nostro territorio. Nella sede di Via Lepertini il colonnello Massimo Cagnazzo, comandante provinciale dei Carabinieri di Ravenna, ha confermato l'intensa e capillare attività di prevenzione messe in atto da parte dei Carabinieri per contrastare questo fenomeno. Grazie alle numerose iniziative promosse negli ultimi mesi nel nostro territorio si registra un calo delle truffe agli anziani, ma il livello di allerta da parte dei militari è sempre alto. Le truffe, molto ben organizzate, solitamente riguardano le seguenti situazioni. La vittima riceve una telefonata da un sedicente avvocato, carabiniero, poliziotto, che il comunica che un figlio o un parente è stato coinvolto in un incidente stradale oppure è stato fermato per degli accertamenti. A quel punto avviene la richiesta di denaro, necessario per coprire le spese dell'avvocato o, peraltro, motivo urgente. Un complice indivisa, nell'arco di pochi minuti, bussa alla porta della vittima che, presa in contropiede, si lascia convincere a consegnare il denaro richiesto. Altre tipologie di truffe riguardano la richiesta di denaro per saldare un debito contratto da un parente stretto o anche la fuga di radioattività, situazioni in cui il truffatore consiglia alla vittima di raccogliere tutti i gioielli e di metterli nel frigorifero. Ovviamente un complice, distraendo l'anziano, provvederà a rubare tutto il mallotto. Truppe agli anziani, è stato registrato un calo, un meno 47%, però comunque da parte del comando l'arma è sempre alta. Questo calo, che è dovuto alla campagna diffusa informativa che l'arma dei carabinieri ha su tutto il territorio provinciale, ci sono dei gruppi, anche peraltro organizzati in associazioni per delinquere, che girano il nord Italia, in particolare gruppi provenienti dalla campagna, che mediante dei negati modus operandi riescono purtroppo a sottrarre anche a volte rilevanti fondi, sia in contanti, sia in gioielli, sia in altri beni e dalle persone anziane. In questo caso l'arma interviene con un pugno duro a tutti i livelli, soprattutto a quello informativo. Come dico sempre, non ci accontentiamo assolutamente dei dati. I dati per noi sono soltanto uno stimolo a continuare, quindi in questa campagna informativa, in questa attività informativa, che l'arma sta svolgendo su tutto il territorio della provincia, sia mediante incontri, posto ovviamente cerimonie religiose, quindi nelle chiese, in gruppi di anziani, sia tramite associazioni di categoria, che io ancora ringrazio, che hanno aderito a questo protocollo, sia grazie anche ai comuni, che hanno collaborato nella pubblicazione e nella diffusione di questi pieghevoli, con cui noi semplicemente raccontiamo quelli che sono gli episodi di vita quotidiana, che si registrano ovviamente nella provincia, ai danni degli anziani, con questi reati che vengono commessi, raccontiamo il modus, come sono avvenuti, che per noi tecnicamente è il modus operandi, per poter ovviamente mettere in guardia le persone anziani, ma io dico non solo loro, ma in particolar modo i familiari, i nipoti, i figli, stanno anche magari più vicini ai loro parenti, devono magari appreso questi modus operandi, magari leggendo questi pieghevoli, che noi stiamo distribuendo già da tempo in tutto il territorio della provincia, devono abitare e orientare i loro familiari.